flic tempo, triplo avvitamento e salta avanti velocissimo, nessuno si aspetta un rimbalzo dopo un triplo avvitamento è stata veramente molto brava, leggera nella spinta un po' congeniare queste rotazioni per lei, con G-Linia lascia un bel cambio con mezzo giro ancora un free flag e doppio avvitamento, salto indietro peso qui involge il pubblico con il ritmo musicale doppio flesso, non ho capito se voleva essere un doppio carpio questo della Visser Carmine oppure era proprio un doppio raccolto forse sì, l'espressione, la partenza per un doppio flesso si è cambiato all'ultimo momento grazie a tutti